L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno. Dopo gli importanti risultati raggiunti nelle precedenti edizioni, si rinnoverà domenica prossima a Raiano l'appuntamento con la passeggiata Insieme contro il tumore al seno, giunta la quinta edizione. L'organizzazione è curata dal Comitato Spontaneo Donne di Raiano, presieduto da Anna Maria Zitella, in collaborazione con l'Associazione Nordic Walking Italia di Raiano, coordinata dall'istruttore Luciano Di Berardino. Non a caso le due associazioni, l'una sportiva e l'altra sociosanitaria, si incontrano dando luogo ad una manifestazione che ha coinvolto e sensibilizzato i paesi limitrofi della Valle Peligni ed oltre, riuscendo ad avere negli anni precedenti più di mille iscritti alla manifestazione. La prevenzione si fa non solo con esami strumentali e visite mediche periodiche, ribadisce la dottoressa Zitella, ma anche attraverso una sana alimentazione e una costante e idonea attività fisica. Sempre più spesso il Nordic Walking viene utilizzato come attività di supporto durante la fase riabilitativa dei pazienti affetti da questa patologia e di prevenzione. Nelle precedenti edizioni sono stati raggiunti importanti obiettivi, con i fondi raccolti, un ecografo portatile, computer e software per la cartella clinica informatizzata, offerti al Centro di Eccellenza di Senologia dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. Inoltre, nello scorso mese di marzo, si è dato vita ad un ambulatorio di senologia a Raiano, dove si registrano un numero elevato di visite già effettuate e visite già programmate nei prossimi mesi. La passeggiata insieme contro il tumore al seno partirà alle 16 da Piazza Postiglione. Le iscrizioni si riceveranno direttamente nel giorno della manifestazione, cioè domenica, a partire dalle ore 9. Sempre nella giornata del 7 settembre si svolgerà la corsa podistica non competitiva da Raiano a Corfinio, per far rientro a Raiano, denominata Una Corsa per la Vita, sulla scia della passeggiata insieme contro il tumore al seno. L'organizzazione della corsa podistica è curata dalla provincia dell'Aquila e dall'Associazione Sportiva Prato L'Atletica. L'obiettivo che ci poniamo, afferma la vicepresidente della provincia Antonella di Nino, è quello di contribuire in modo concreto alle attività svolte dall'ambulatorio di senologia di Raiano. Nello specifico della corsa podistica, la di Nino fa sapere che i runners potranno partecipare alla gara senza dover versare alcuna quota di iscrizione, ma con la possibilità di dare un utile contributo attraverso la donazione libera per la raccolta fondi, in modo spontaneo. Quindi, anche con la sola partecipazione, ognuno contribuirà alla realizzazione di ulteriori traguardi, onorando il grande lavoro fin qui svolto per l'avvio dell'ambulatorio. Il nostro impegno, afferma ancora, non finisce qui. Puntiamo a potenziare l'attività con maggior personale e ulteriori attrezzature. A tal proposito, la vicepresidente della provincia dell'Aquila rivolge un appello a tutte le associazioni di podisti d'Abruzzo affinché, senza indugi, si uniscano a noi, dice, per partecipare a questo importante appuntamento sportivo che ci impegna a correre insieme per la solidarietà. L'appuntamento con la corsa podistica, che ricordiamo si svolgerà dopo la passeggiata, insieme contro il tumore al seno, e per le 18 da Piazza Postiglione a Raiano, dove avverrà la partenza. La di Nino conclude con lo slogan che è stato scelto per l'occasione. Corri anche tu, insieme a noi, per il traguardo più bello, quello della vita. Corri anche tu, insieme a noi, per il traguardo più bello, perché è stato scelto per l'occasione.